Per quanto riguarda il Milan, no, nel senso che non sono rimasto male. Già dal primo gennaio sapevo che non sarei rimasto al Milan, quindi ho cercato di finire la stagione al migliore dei modi, ma sapevo che questa stagione avrei giurato con un'altra squadra. La Fiorentina penso che sia una squadra costruita bene, un mix di giovani, di talento e di giocatori esperti. Sicuramente ci sono squadre più attrezzate di noi, il campionato scorso l'ho dimostrato, però penso che la squadra sia rinforzata, il nostro obiettivo è quello di giocare ogni partita al massimo e cercare di arrivare a prenderci un postino dopo.